Blitz dei Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento e del ROS di Palermo stanno così eseguendo dall'alba dieci misure cautelari emesse proprio dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della DDA. Un obiettivo dell'organizzazione mafiosa attiva in provincia di Agrigento emerge così dall'operazione in codice Condor che era proprio il controllo delle attività economiche come a Palma di Montechiaro in particolare nel settore degli apparecchi da gioco e delle mediazioni per la vendita dell'uva. Negli atti dell'inchiesta viene così documentata l'interferenza esercitata da Cosa Nostra nel settore economico delle transazioni per la vendita di uva e la progressiva ingerenza della stida. Ma sono stati anche emersi rapporti del vertice della famiglia mafiosa di Palma di Montechiaro con l'Andrina Calabrese e dei Barbaro di Platì e il controllo di una grossa parte del settore imprendatoriale delle slot machine e degli apparecchi da giochi installati nei locali commerciali. Ancora una volta un imprenditore è stato anche costretto a non partecipare a un'asta giudiziaria finalizzata alla vendita di alcuni terreni. Sono state registrate una tentata estorsione a un imprenditore della distribuzione e gestione di congegni e apparecchi elettronici, la gestione di un impianto di pesatura dell'uva i cui proventi sarebbero stati in parte destinati al mantenimento dei detenuti e anche dell'estorsione. Nell'imposizione dell'assunzione di uno degli stessi indagati ai danni di un'impresa giudicataria di lavori a Ravanusa. Uno degli indagati avrebbe così tentato di espandere la propria influenza al di là del territorio palmese, a Favara e al villaggio Mosè di Agrigento, un altro posto che al vertice della famiglia di Palma di Montechiaro avrebbe così esercitato il ruolo di garante a favore di un esponente della stida davanti all'allora reggente del mandamento di Canicatti.